La UEFA ha ufficializzato le date e gli orari delle partite di Champions League tra Napoli e Milan, che si giocheranno ad aprile. La gara di andata si giocherà all'estadio Giuseppe Meazza mercoledì 12 aprile, mentre il ritorno all'estadio Diego Armando Maradona di Napoli è previsto per martedì 18 aprile. L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti sembra fiducioso nella sua rosa, ma non sottovaluta la forza del Milan. Intanto il tecnico del Milan Stefano Pioli è estremamente fiducioso nella sua squadra e crede nel loro passaggio in semifinale. Ma ciò che ha entusiasmato i tifosi di tutto il mondo è l'attacco micidiale del Napoli, guidato da Quarazkelia e Osimen. L'ultimo gol del nigeriano nella gara di ritorno contro l'Eintracht ha sbalordito l'anguissa e sicuramente ha attirato l'attenzione dei suoi avversari europei. Marca, uno dei principali quotidiani spagnoli, riporta che anche squadre come il Real Madrid hanno paura di affrontare il Napoli. Quando a Pioli è stato chiesto chi fosse il migliore, Leao o Quarazkelia, l'allenatore ha detto. Difficile da dire, hanno caratteristiche diverse. In campionato ci manca Leao, a loro manca il Quarazkelia. Saranno belle partite tra due squadre forti in Champions League. Chi sarà il più forte tra Leo e Quarazkelia? Una domanda che troverà risposta solo nelle entusiasmanti sfide tra Napoli e Milan in Champions League. Ma tu, cosa ne pensi? Lascia i tuoi pensieri nei commenti e non dimenticare di iscriverti per ulteriori notizie Napoli.